If I hit the switch I can make the ass drop, stop, drop and pop, and after you pop it please put it in my pocket look here I need a spot Hey la ragazzi sono sempre io il vostro di Corea25 ed eccoci qui per un nuovo video di Diep.io Come vi dicevo sto portando molto Diep.io perchè in confronto a Slither mi da più spunti e più divertimento Quindi entriamo subito in partita FFA classica e speriamo a questo punto ecco Già adesso lagga di meno ragazzi non posso che esserne contento ci sarà qualche laggata ma vi ripeto non è un problema mio Anzi l'ho riscontrato anche non registrando che è proprio una roba non sapete il fastidio che mi da Ok siamo subito al machine gun che ho ucciso? Ho ucciso qualcuno di potente ragazzi No ma dai Porca miseria vabbè ricominciamo Comunque ragazzi ho ucciso qualcuno di potente perchè mi ha dato Ma che stronzo sei ma smollami Basta quello era lo sprayer ragazzi ecco Avete potuto ammirare da vicino lo sprayer Ok rimposto la sparanza automatica Io perchè uso sempre lo sparo automatico porca miseria Ma dai sono morto col... Peggiore inizio non poteva essere Vabbè ragazzi calma massima calma mettiamoci tutte le 3 penetration perchè veramente mi sono rotto le balle Mettiamoci la speed automatica la... la autofire e via e cominciamo E' finalizzata questa puntata allo sprayer che è una classe intermedia non di terzo livello Che è veramente... ma cos'è quel roba lì? Cos'è quel coso lì? Cos'è quel coso lì? No ragazzi sto scoprendo una cosa insieme a voi cos'è? Cos'è sono bombe queste? Cioè no veramente Ma che classe è questa ragazzi? Porca miseria non si finisce mai di imparare ragazzi Comunque vi ripeto non so in che cosa siamo Ma voglio finalizzare questa puntata al mostrarvi lo sprayer Che è una classe veramente devastante Con lo sprayer ragazzi offline sono riuscito a fare prima posizione E porca miseria Oh uno stronzo che mi sparate dietro Mettiamoci la mage No 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 statemi lontani triangolini No 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 Sprayer bastardo Ma che stronzo E niente ragazzi riproviamo la scalata Verso... Eeeh vada la la Mi sono trovato un enorme a fianco Ma smollatemi subito Non voglio rogne Cerchiamo ragazzi di Con lo sprayer di raggiungere i vertici di questa leaderboard E magari proprio come il culo che ho avuto offline Di riuscire ad arrivare primi Che in tutti questi fottuti episodi Ormai ne sono passati 5 Questo e il sesto Non sono mai arrivato primo Massimo se non erro terzo Non vorrei sbagliare Forse anche secondo no terzo credo Non ho capito il perché Io ho i proiettili blu E loro ce li hanno rossi Forse una nuova giunta del DT E poi non lo so Può darsi che i proiettili Dele metta Da che ti uccido E l'ho ucciso Mi dispiace che era piccolino Ma La guerra tra piccoli C'è E esiste Inutile dire di no Ok qua c'è qualcuno che spara Andiamocene immediatamente Non mi prendete di mira Che sono debole No ma sei stronzo Non ci posso credere ragazzi Sarà una dura Un'lotta dura Ma ce la possiamo fare Ce la devo fare Ok ragazzi Ho appena fatto fuori Due persone consecutive Sono potuto arrivare allo sprayer Ma sono a livello 45 subito Perché ho ucciso un octotank Che mi si è avvicinato Pericolosamente Facendo il furbo Quindi ragazzi Mi metto un po' di health regen E 3 punti in speed E uno in damage Ragazzi mi sono maxato Quasi alla grande E ora Obiettivo è arrivare in classi Siamo terzi ragazzi Siamo già terzi E questa volta Il primo posto me lo voglio prendere Non lo lascio a nessuno Mi dispiace Mi sono maxato alla grande Andiamo al centro qua Che ci sono i pentagoni Mi farmo ragazzi Come vedete Lo sprayer È una classe intermedia Perché dal 30 in poi Non sale più Perché secondo me È già devastante così Farlo salire ancora Sarebbe veramente Un delirio per gli altri E lo sprayer Ha l'abilità È un machine gun Con un altro cannoncino davanti Allora ragazzi Vi dico la verità Io volevo portarvi questa build Già dall'inizio Quando nacque lo sprayer Quando uscì lo sprayer Che ancora non aveva nome Però per forza di cose Poi non riuscì a farlo E purtroppo adesso Come vedete Il terzo colpo che esce Dallo sprayer è più piccolo Hanno ridotto il terzo colpo Perché ragazzi Lo sprayer Era stato segnalato da tutti Come troppo potente Quindi decisero di abbassare Il primo colpo Decisero Hanno deciso Hanno deciso di abbassare Il terzo colpo Perché era troppo devastante Lo sprayer Infatti io con lo sprayer Classico Ero arrivato primo In classifica Mi sono voluto maxare Come vedete Tutte le cose di colpi E il track è in bassa Ma la vita è veramente bassa Eh Che fai tu Lezzo Volevi uccidermi No Secondo me non mi stavo Neanche cagando Però Ok ragazzi Adesso che dire Vaghiamo un po' Cerchiamo alla ricerca di Hard Hard mi dispiace Ma devi morire Mori anche tu Col twin No Non è morto Lì c'è un machine gun Che forse vorrà arrivare Allo sprayer Come noi Eh Eh Non è morto da me Vabbè Fai niente Ok Sono secondo ragazzi Siamo a circa 8000 9000 Dal primo Io direi di non provare Ad andare verso il primo Perché io non sono molto coraggioso Magari potrei anche provarci Potrei Devastarlo Nulla è detto Speriamo che qualcuno Abatta il primo Evacca trova Ma ragazzi Sono scesi In classifica radicalmente Proprio Cosa hanno fatto i primi Un attacco radicale Sono arrivati tutti i primi All'improvviso Mi allontano un po' Recupero un po' di vita E poi ritorno di là Ho ucciso Marco MG Forse è un team Non so ragazzi Cosa sto combinando Io sto un po' sparando a caso Sto cercando di fare punti Alla ricerca Oh c'è un gunner Niente Si è allontanato Adesso mi sta mirando il gunner Gunner mi devi mollare Perché io ti faccio il culo Te lo dico C'è una penetration Che ti penetra anche tua mamma Ragazzi Quanti pentagoni Quanti pentagoni Non mi sto finendo Eh qua però C'è una potenza di fuoco Non indifferente Da quella posizione Non so chi Se mi stia sparando Ragazzi voglio provare A distruggere questo pentagono Grosso Eh non lo so se ci riesco Mi focalizzo su quelli piccoli A questo punto ragazzi Provo quelli piccoli Poi ogni tanto Mira quello grosso Posso farlo fuori Questo grosso Si ci posso riuscire Dai che ce la faccio Si non so se l'ha data a me Credi si Siamo terzi ragazzi Ho ucciso Fandios Che credo fosse il twin di prima Ok beh Alla fine i danni ragazzi Non è che siano ingenti Eh I danni che mi procurano Questi triangolini Riesco a recuperare Vita Abbastanza velocemente Certo Devo stare attento A non distrarmi Tipo quei danni dei triangolini Si sommano i danni Di qualcuno che mi spara Devo stare veramente attento Ok Provo a buttare giù Questo pentagono ragazzi Mi sono fissato Non mi interessa niente Però ragazzi C'è da dire Che è molto veloce Lo sprayer Buttare giù i pentagoni Se vi so fermate qua Un minutino Lo distruggete il pentagono Certo Dovete stare attenti Ai triangolini Vi ricordo E anche a chi vi spara intorno Perché Poi è un attimo Che ve lo metto nel sedere Ok Credo di averlo distrutto io Sono a 72.000 Cavolo ragazzi Quanti punti vi danno Sti pentagoni Triangolo smollami Ok Là c'è un pentagono C'è qualcuno che spara Oh C'è un Eh però Ha una potenza di fuoco devastante No Stai lontano subito Ok Adesso mi puntano Anche perché sono Secondo in classifica Ma hai rotto le balle Tu e te lo dico chiaramente Adesso cerco Un modo per fare fuori Questo qua ragazzi E' meglio avvicinarmici Perché mi sta dando fastidio Voglio cercare di farmi fuori Se mi sta lontano Quello di prima Ragazzi posso Barrios the King Primo ragazzi Barrios the King Primo Non so se vedete 82.000 E adesso inizia il regno Del terrore di Barrios the King Non me ne frega niente Adesso ragazzi Mi temere Mi temesce Temescerete Tutti Non so come cacchio si dica Ok Road to 100.000 Ragazzi Road to 100.000 Non me ne frega niente Guarda Triangolini Potete anche venirmi A scassare le barre Ecco adesso ragazzi Sono tutti focalizzati su di me Perché sono lì Ma cos'è sta classe Ma che schifo Ma che proiettili lanci Sfigato E ragazzi Adesso saremo Tartassati Di gente Ok ragazzi Siamo alla soglia Dei 90.000 Era inevitabile Che con questa classe Arrivassi prima in posizione Però ragazzi Volevo farlo in video E in video Sto facendo Una figata di partita Perché vi dico Che offline Off camera Ho fatto Prima in classifica Ma con 50.000 circa Scusami Un emet tank Ma Si è capitato Nella mia potenza di fuoco E Il regno di terrore Di Dico Ray Deve continuare Di Dico Ray Barrios the King In questo caso Ok ragazzi Siamo a 9.000 punti circa Dal Dai 100.000 Voi arrivarci Io vi consiglio Lo sprayer E' stato depotenziato Figuratevi da potenziato Ragazzi Io da potenziato Sono arrivato a 50.000 Ero in un server Competitivissimo E non sono arrivato oltre Ora il secondo ragazzi È 52.000 Quindi comunque Il nostro regno di terrore Di Dico Ray Può continuare Se non ci dà fastidio qualcuno Io Andrei di nuovo Verso i pentagoni Perché voglio arrivare Il primo possibile A 100.000 Ho schillato Il cifre di Oh è offline questo Ucciso 116.000 Ragazzi Cavolo Cavolo ragazzi Io non ho parole Se non ricordo male C'era stata una sfida Da parte di CiccioGamer Che aveva detto Ragazzi Vi sfido a superare 109.000 Sono molti in ritardo Ma posso dire Che ho superato CiccioGamer Poi non so ragazzi Ditemi voi nei commenti Se CiccioGamer Aveva fatto un altro video In cui Aveva superato questo punteggio Però Io mi ritengo soddisfatto Non era la sfida A CiccioGamer Questa ragazzi Ma comunque Reputo La sfida di CiccioGamer Oh ma qua c'è uno stronzo Che mi spara da sopra Eccolo infatti Eh ma adesso ti faccio il culo Caro mi No porca miseria No No ragazzi Mi ha ucciso Titans Credo che sia Che fosse No ragazzi Era arrivata 144.930 16 minuti di gioco Livello 45 Sprayer Ora non so ragazzi La tempistica quant'è Fatemi controllare Ok ragazzi Io direi Adesso con il punteggio raggiunto Proviamo a ricominciare Stavolta mi chiamo Dicorai25 Voglio vedere se riesco a portare Entrambi I miei nomi conosciuti In classifica Dicorai25 Machine Gun Mi rinforzo subito ragazzi E ci rivediamo Quando arriverò Al sprayer Ok ragazzi Come potete vedere Sono già sprayer Sono già a livello 35 Ho ucciso un emet tank Non so chi sia E sono in classifica Sono terzo ultimo in classifica Prima di attaccare E registrare Ho detto Aspetto un po' Non faccio il sabito da sprayer 30 Anzi non volevo attaccare neanche a 35 Ma volevo attaccare A livello 45 A registrare Ma Mi sono Ho attaccato prima Perché ero proprio vicino al leader Scusami Perché ragazzi Ero vicino alla zona del leader E stavo mettendo in difficoltà Al leader Che è Maktep Quello che credo Che mi abbia ucciso Che era Se non erro Uno booster Quello del scorso episodio mio E volevo metterli in difficoltà Poi ragazzi Questi video li vedrete voi col tempo Ma io li sto registrando tutti vicini E volevo Ucciderlo E scappato in una maniera assurda Avevo una paura Ha visto il ritorno di Barrios Dei King Sotto mentite spoglie E si è cagato addosso No mi uccide questo twin Porca miseria ragazzi No ma cavolo Ragazzi Vabbè Rifaccio tutto Posso arrivarci Con Dicorei Ok ragazzi Siamo di nuovo al 45 E che dire Cavolo Siamo di nuovo In classifica Siamo in una bella posizione C'è da dire però Che il primo è a 134.000 Ed è una roba atomica Però non ha battuto il mio record 144 Ecco si l'ha appena battuto Meglio che sto zitto E il primo Ragazzi Sarà difficile da buttare giù Però Problema Con il mio Dicorei È arrivare almeno nella top 3 Perché sarebbe una gran cosa Arrivare con Barrios the King primo E con Dicorei 25 Nella top 3 Dicorei 25 Non l'ho mai usato Ricordi Se non erro Non l'ho mai usato In Diep Perché io uso ovviamente Il nome del mio canale Anche se Tutti voi che mi seguite Assiduamente Sapete che io Mi faccio chiamare Barrios the King Ma questo non so cosa c'entri Però l'ho detto No devi morire twin Mi dispiace Mi dispiace Ma ti devo venire addosso Ok l'ho ucciso Posso andarmene Era una cosa personale ragazzi Doveva morire per forza Quel twin Ok Sono quarto E sono molto lontano dal terzo Tra l'altro Però io spero che i primi Si affossino tra di loro Così da poterne approfittare Come prima Perché prima Poi all'improvviso Mi sono trovato primo Con 80.000 punti Ora però devo stare attento Agli sniperoni Che prima mi hanno fatto il culo Io intanto faccio punti Sono terzo Ufficialmente terzo Dicorei Ma Dicorei non si accontenta E prova a scalare Il podio Magari non primo Perché veramente Il primo è a un livello Atomico Se me lo segnala Il primo io ragazzi Se vado a fare un suicidio Provo ad andare a uccidere Non me ne frega niente Mi sono messo molti più punti In movement speed ragazzi Ho deciso di rinforzare Molto la movement Infatti si vede Quanto ne risente La mia alt regen Però Che dire ragazzi Ho voluto provare Una versione diversa Tanto comunque Nulla ho da perdere Io il mio obiettivo Di partita Cioè la build Ve l'ho mostrata In più Che Se mi build Diciamo Ve l'ho mostrata In più Vi ho mostrato Io che ero padrone Del server Indiscusso Con 144.000 E passa Oh Michael Osborne Ragazzi abbiamo sotto di noi Mi ha ucciso ragazzi Michael Osborne Mi ha ucciso Cioè Michael Osborne Hai una classe del genere Non vai contro leader Ma sei un coglione E niente ragazzi Abbiamo provato Abbiamo provato Sì vabbè Abbiamo provato Ad arrivare Tra i primi Anche con Dicorai 25 Ma non ci siamo riusciti Mi accontento Della mia prima posizione Del record Mio attuale Di 144.000 So che ragazzi Voi direte Io ho visto uno 700.000 Non me ne sbatte in altamente Niente Però volevo dirvi Sono contento Del mio record personale Sono contento Di essere arrivato Primo finalmente Dopo 6 episodi Di questo Fottuto T-app Vi consiglio lo sprayer Perché è una roba Fenomenale E che dire ragazzi Per questo episodio Build Sprayer Barra Primo in classifica Barra Sfida di Ciccio Gamer Che anche se è un po' in ritardo L'ho superata Da Dicorai 25 È tutto Lasciate un like Un commento E iscrivetevi Condividete questo video Per raccomandare questa epicità A tutti i possibili Perché arrivare primo Non è Cioè è cosa da tutti Perché molti lo fanno Però Per me non è cosa da sempre Tifo Michael Osborne Che si sta avvicinando molto Al primo Ma Che dire Per questo video è tutto Ricordo di lasciare Tanti like E commentate Per dirmi Come vi è sembrata La mia partita E good luck ragazzi Ciao ciao Ciao